Amiche e amici di All4Shooters, siamo all'Igua, a Norimberga, allo stand dell'Air Max Harbs. Con noi c'è Raffaele Mencarelli che ci presenta un nuovo modello della Catran. Ed eccola qua, la nuova Catran SC Short Carbine. Si presenta con una canna da 230 mm, un retro non più collassabile ma smontabile, quindi viene tolto, viene applicato un blocco e l'arma diventa di fatto una pistola. Nuovo anche questo nuovo bipode che permette di essere fissato magneticamente con libero oppure fisso. Fisso può anche essere preso così impugnato e uno la usa come rest. Catran è il motore che già conosciamo quindi privo di massa battente con il cane, caricatore da 16, caricatore da 18 nel 4,5. Ovviamente per una canna così corta hanno fatto solamente il 4,5 e il 5,5. Sarà un high power superiore ai 20 J, quindi pass control ma soprattutto tanto tanto divertimento quando è una cosa corta così è garantito. Questa è la semplicità d'uso, qua viene messa la vite di blocco e abbiamo la carabinetta o la pistola, è scelta. Pronta? Ciao! 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 Ciao!